Ciao a tutti ragazzi, ti ho fatto uno switch incredibile e guardiamo una profile di grande Gnacca con Monarcha perché è il mazzo più bello di Edison Format perché ci sono sia i Monarchi che le Rane figa le Monarchi con le Rane insomma Trecaius che è il più forte insomma questa è una checklist un po' spicy però funziona molto bene due Ryza che è il secondo più forte non tre perché a volte fa un po' schifo questo che è molto forte, allora in tanti non lo giocano nelle liste di Monarcha però è fortissimo perché risolve sempre ed è un meno netto all'oppo buono buono poi per le Rane tre di questa, tre di questa che è insana, cioè ti fa far combo Rana una Rana bannata cioè ti fa sfoltir tutto, chiudi con due di queste anche questa qua alcune ne giocano solo una, cioè solo due in realtà però è un po' meno perché comunque settata è buona perché ti fa i plus e... è comunque un bel culo, un 2.000 sì, averne due ti fa la Lok, ti fa stellare, fai il cazzo di pari due di queste che mi manca la seconda ne va degli alberi, l'altra è sull'albero poi arriva la... la componente un po' spicy che sono due... figa i pistole, il pum pum due... due di questi sono buoni perché ti fanno giocare sia sotto Moskov Restrict questi qua ti danno free tribute i tandilaio cose belle insomma poi per la serie Loppo non mi deve toccare due battle fader e un gorzo colorato se passi non passi lo stesso di solito se passi non passi e poi essendo che ci abbiamo tutte le rane eccetera treggiare dell'avarizia che praticamente è sempre viva cosa qua che è buona perché vabbè ovviamente le partite vanno per le lunghe ti cerchi quella che ti serve forte forte anche lei poi one for one una bella ripartenza per il mazzo comunque esatto, è molto forte poi c'è le katte che danno fastidio queste esatto, che ci sta poi con i Monarchi uno, due c'è un'altra ecco lì sono le katte che danno fastidio che non ti aspetta eh sì, allora uno 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 perché sono katte che dipendono un po' dalle situazioni quindi averle poter scegliere quale usare di loro cioè lei generalmente è sempre buona le altre due dipende comunque anche se la mia katte è usata bene da fastidio esatto poi questo qua che vabbè manda la rana manda dandy due di questi che è molto forte perché comunque uno dei problemi di Monarchi è che dietro non puoi avere set quindi le trappole reattive sono molto forti questo qua scarti la rana scarti dandy quindi è sempre molto forte sembra il 2005 ragazzi esatto compulsory ah sì una cosa questo qua è più forte di battito d'ali cioè battito d'ali si giocava però un po' un meno questo Monopair perché insomma è un po' scarso però contro i sincro così è si è buono va anche contro Stardas comunque da fastidio esatto esatto poi trappo la botola sempre per il discorso sta uno ma dentro la giocherò stesso eh sì è sempre per il discorso di avere guardi la mano ragazzi che vuoi fare poi l'extra è un po' random insomma tanto fai trapani e sei a posto tanto fai sempre trapani questo trapana? eh sì che trapana figa poi questo qua che vabbè è scemo un altro scemo questo a caso non c'è neanche Cyberdrug vabbè se lo becchi intanto va questo perchè Secret o più lui questo perchè Com non mi ricordo mai cosa fa questo quando picchia spacca tutto in difesa vabbè lui che buono e lui mi sa che non posso neanche farlo boh ogni tanto è lì è bello è super vecchio ragazzi ci sta eh va bene due riflessioni sul mazzo bello è un mazzo divertente forte e si fa gli affari suoi ah sì 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 quindi questa è la propana ragazzi spero vi sia piaciuta dal vostro Gnacca è tutto anche da me è tutto e ci vediamo bella